Eccoci qua, adesso ci siamo, allora Andrea Peroni, buongiorno a voi, buongiorno a tutti, è sempre bello ritrovare i ragazzi del Messaggero, il baccalà di Ruben è appena andato in archivio, buono, senti che vorrei, ecco qua, allora, no, Metaverso, No, parlavamo di Metaverso, mi è venuta in mente questa cosa di Ferramenta, perché fondamentalmente quando, ecco, il Ferramenta è un posto dove io non mi sento al sicuro, ma perché sono convinto che loro abbiano delle informazioni che noi non possiamo minimamente immaginare. Tipo? Tipo, quando tutti, a parte la tragedia quando tu porti un pezzo, ti presenti con un pezzo che può essere un o-ring, una guarnizione, a me è successo con un rubinetto filtro, ho portato questo rubinetto filtro e questo Ferramenta mi ha detto, guarda che hai combinato, cioè, guarda che hai combinato oggi, ma dove l'hai preso questo? Dimmi la verità, dove l'hai preso? Ma già dimmi la verità, dove l'hai preso, cioè, sembrava io, era un o-ring, esatto, era un o-ring, fondamentalmente, ha preso sto pezzo ed è sfilato via in quell'angolo che si vede nel Ferramenta dove c'è una luce, è tipo una quinta, sembra una quinta, escono lì, parlando con un'entità, ecco perché c'è il Metaverso, un'entità che non si palesa poi, eh Piero, abbiamo questo, e escono, e tu non sai che succede là dietro, e io sono convinto che là dietro, ma non esiste, è tutto scritto, guarda, credi, perché loro escono e non si sa che c'è là dietro, ma ve lo dico io, là dietro c'è il Metaverso, ed è tutto scritto perché poi tu rimani da solo, soltanto col rumore delle ventole, dell'aria condizionata, del riscaldamento in quel momento, una persona che entra e che già sa quello che tu stai facendo, ti dice, o-ring, come fai a sapere che io sto là? È una comparsa pagata, che ti dice, o-ring, rubinetto fitto, dico sì, rubinetto fitto, e là ti dà proprio la stangara finale, ti dici, è successo anche a me, abbiamo dovuto smurare, e quando ti dice abbiamo dovuto smurare, smurare è bruttissimo, intanto il ferramenta si è perso nel Metaverso, certo, sa che ho piego, sto chiesto, tu hai investito mai nel Metaverso? però sicuramente, esiste il messaggero nel Metaverso? Il messaggero nel Metaverso c'è, ce sta, ce starà, sicuramente, adesso insomma delle versioni di Metaverso le faremo, sicuramente stiamo facendo tutte le versioni che già ci sono a disposizione, ce stanno tutte, abbiamo quella cartacea, abbiamo il digital, il social, è che non c'è il social? ci abbiamo tutto al Metaverso ci arriveremo, abbiamo persino fatto una prima pagina del nostro inserto di tecnologia fatta scrivere all'intelligenza artificiale che interrogata bene, domandata bene, è un bel aiuto esaustiva nelle sue risposte ma se l'uomo ci lavora bene sull'intelligenza artificiale può fare tante cose, soprattutto può evitare di annoiarsi quando lavora sai che cosa non c'è ancora? non c'è, messaggero social club messaggero social club, in realtà c'è è una verifica che si chiama così, è proprio quella dei social è una parte del nostro sito che si chiama messaggero social club e ci finirai dentro, caro mio non perché vieni proprio da Radio 2 Social Club in questo momento e diciamolo, vogliamo dire che Barbarossa è qui con noi Barbarossa è qui con noi, con l'anima e con il corpo ma senza la racchetta senza la racchetta, è impegnato e non voglio dire altro è impegnato in una cosa seria molto seria un match, non dico Sinner-Jokovic ma più o meno stiamo lì Mannarino-Barbarossa quindi diciamo San Basilio San Basilio Monteverde Monteverde che è un'operazione complicata rischiosa chi sta a Roma sa chi non sta a Roma è il caso che sappia esatto quando San Basilio si scontra a me non mi hanno invitato perché con il fatto a Ciglia basso troppo la media capito? esattamente diciamo adesso io sono un po' a Ciglia un po' Piazza Pio undicesimo Ricordio Settimo quindi la collocazione ancora non ce l'ho ti stai ovestizzando ti stai romovestizzando esatto è ovest quella è Roma ovest è Aurelia è più ovest è assolutamente Roma ovest senti allora Andrea avete ricominciato un'altra stagione che è la quindicesima stagione di Radio 2 Social allora ieri erano qui Marco Presta e Antonello Dose tanti amici abbiamo a Radio 2 e abbiamo proprio fatto una considerazione che Radio 2 ha questa caratteristica di enorme fidelizzazione e di programmi che durano tanti anni e che creano un loro pubblico molto spesso è osmotico il vostro con quello del ruggito praticamente quasi perché vi passate il testimone sì 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 ma guarda da loro Lillo e Greg sono vent'anni da loro c'è solo da imparare perché poi non lo dico per fare insomma così l'aziendalista però dico la verità da dose e presta c'è soltanto da imparare poi è vero che i programmi che funzionano vanno secondo me tutelati ora Social Club è un programma che funziona magari con i motivi elencarti i motivi sarebbe un'impresa non lo so perché cioè so perché so che c'è un gran lavoro dietro c'è stato un lavoro di costruzione di anni per arrivare a questo poi siamo arrivati a costruire una squadra bellissima che lavora voglio ricordare anche tutti quelli che lavorano e fanno un lavoro meraviglioso dietro le quinte da Marco Verdura a Giulio Somazzi che è il mio autore di riferimento della parte comica al capo progetto che è Massimo Martelli insomma io ti posso dire una cosa e lo sai perché sono venuto a trovarvi qualche giorno fa e ho voluto assistere a una puntata proprio nel backstage diciamo fondamentalmente quasi seguendo o inseguendo Martelli che è una specie non so come non saprei come dirlo perché è tra è una qualcosa di più di un regista è qualcosa di più di un autore è fondamentalmente non so beh l'ha fatta tutte e due perché il regista l'ha fatto in bar sport con il suo film con Claudio Bisio e con vabbè Massimo è una storia della televisione quindi c'è è uno che riesce ad avere la visione totale di quello che accade cioè quando noi siamo in conduzione io e Luca a Social Club si gezza si fa gezza è molto gezza fare gezza vuol dire cavalcare quello che accade al momento io lo faccio con piacere perché amo anche ridicolizzarmi al momento amo anche improvvisare interpretare c'è un libro bellissimo che ha scritto Tatti Sanguinetti che è Il cervello di Alberto Sordi dove c'è ci sono diverse svalere interviste a Sonego che racconta come autore grandissimo coautore di tantissimi film di Alberto Sordi dove Sonego racconta racconta degli aneddoti bellissimi dicendo non c'è stata mai una volta in cui Alberto Sordi mi abbia detto no non ci provo cioè capitava che lui di notte avesse un'idea chiamava Sordi diceva ho pensato ho immaginato di farti interpretare un albero di Natale e Sordi non gli diceva ma che te viene in mente e Sordi diceva perché no proviamoci poi magari trovava il suo modo di fare l'albero di Natale però dice sai che un oggetto come può essere umanizzato e la stessa cosa accade a Social Club io per esempio lavoro in costante contatto con Giulio Somazzi lo ascolto alcune volte nelle cuffie che ho perché abbiamo è talmente dato tutto veloce che le indicazioni arrivano anche al momento e ci sono delle volte in cui lui mi dice prendi quello e fai questo e io lo faccio perché mi fido ciecamente di quello che mi dice lui so perfettamente che un mio autore non può mai remare contro il programma e non potrebbe mai mettermi in difficoltà e quindi lo spirito di Social Club e il successo di Social Club è soprattutto l'improvvisazione aggiungo una cosa che probabilmente proprio il germe di Social Club prima dentro la radio poi con la radiovisione in qualche maniera ha fatto capire diciamo e accettare l'idea che al mattino si potesse fare sia nel radio sia anche in televisione uno un vero e proprio show perché in realtà è il vostro show perché c'è musica ci sono attori che vengono c'è la comicità fondamentalmente e dico pure che poi dopo anche quel grande genio di Fiorello sta sdoganando moltissimo orari ancora precedenti col suo show mattutino alle sette che comunque ha un'origine che in qualche maniera è radiofonica e nasce proprio da un prototipo lo stampo della radio anche nel programma di Rosario si vede cioè lui ha proprio questa questa radice che è inequivocabile la radice radiofonica già prima da Radio DJ e da tutti i suoi trascorsi e da tutto quello che lui ha fatto nella sua carriera poi lui ha una grandissima skill si chiama in questo in questa epoca Rosario è bello o è bello cioè a 61 anni 61, 62, 61 non mi sembra non mi ammazzano non me la ricordo bene è bello ancora cioè è proprio un figacione capito? senti tu però convivi appunto da 15 anni con un altro bello io convivo con un altro bello che è Luca Barbarossa che si si che se li porta che se li porta bene se li porta molto bene grande cantante soprattutto secondo me appunto grazie a social club giustamente ha capito che può essere un grandissimo intrattenitore un grande presentatore ed è un grande tennista sì devo dire la verità è un grande tennista è un grande tennista San Mannarino come tennista però Barbarossa è un grande tennista ma mi hanno detto che se la gioca mi hanno detto che se la gioca è un bello cattivo cattivo come San Basilio giustamente senti tante prime pagine no? sei stato qui anche a giugno quando abbiamo inaugurato questa mostra dopo domani sarà proprio il nostro cubine perché sarà il giorno esatto dei 145 anni mi dici qual è qualcuna che ti ispira che ti ha ispirato che te la ricordi guarda quella lì me la ricordo vabbè a parte l'Italia e vabbè la dipartita di Alberto Sordi però c'è quella c'è quell'immagine là di Gigi che ancora brucia tanto perché è passato così poco tempo e manca così tanto che è veramente mi viene un po' la malinconia a guardarla quella pagina là perché per chi fa il mestiere tuo specialmente per un romano è la polare è stato quello che ha lasciato un vuoto che si sente tanto perché io non ho avuto modo di frequentarlo non ho avuto modo di lavorarci ho avuto modo di lavorare con 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 suoi allievi vedi Enrico vedi Gabriele insomma Flavio stesso insinna però manca proprio non solo l'attore manca proprio sapere che ci sia Proietti Proietti è uno che ha ribadito diverse volte questo concetto beati noi che possiamo continuare a giocare i nostri giochi di bambini non nel teatro che per me è una massima assoluta che ritrovo ogni volta che parte inizia uno spettacolo che si accendono le luci che parte la musica che parte l'orchestra inizia a suonare e finisce e quando finisce lo spettacolo mi accolgo che per quell'ora e mezza quelle due ore abbiamo giocato ed è una massima che io studisco gelosamente l'ho sempre fatta mia e poi ecco sapere anche che non c'è più nessuno che veglia su quel su quel meraviglioso teatro che è volevo dire appunto perché voglio anche dire che Proietti è l'ultimo ad aver costruito un teatro a Roma eh sì e poi che teatro e che teatro e ovviamente adesso sapere che diciamo purtroppo non è in funzione che la famiglia sta facendo un grande sforzo con la fondazione per mantenere attive intanto le stagioni quello che ci va dentro il teatro però ovviamente quella cosa ora io non conosco bene la storia so che c'è un problema proprio strutturale di usura del ehm della struttura però io credo che con un po' di buona volontà e con sento spesso parlare di investitori di benefattori di persone che amano eh i beni della città e che hanno a cuore ehm che hanno a cuore insomma eh la città allora quello è un pezzo di Roma è diventato inevitabilmente un pezzo di Roma ed è diventato soprattutto un un mezzo per diffondere un tipo di cultura che alla quale alla quale non possiamo fare a me della quale non possiamo fare a meno quindi credo che ci sia proprio la la necessità che ci sia un un un'unione un un allineamento una una disponibilità aiutiamo questo questo adesso ripeto io non so a che punto è la la situazione l'ho seguita e la eh accuratamente insomma faccio questo appello, magari non serve a niente Andrea tu adesso qua, oggi la chitarra non ti ho fatta trovare e questa è grave questa è grave, vogliamo dire però ecco nel tuo modo di fare spettacolo è caduto il telefonino spento la canzone c'è tanto nelle tue imitazioni ci sono tanti cantanti sicuramente il mio preferito è Califano ecco te lo dico francamente perché si capisce anche la generosità del tuo tributo quando fai Califano ma guarda io Califano ti dico non c'è, io riconosco la capacità la grandissima arte di un imitatore che non è la mia cioè nel senso che ci sono degli imitatori straordinari in questo paese da Claudio Lauretta a Leonardo Fiaschi a Leonardo credo sia abbiamo degli imitatori fantastici e recentemente ho fatto una serata con Claudio Lauretta a Bari dove mi ha raccontato la genesi proprio anche dei suoi personaggi come studia il personaggio e devo dire la verità è un altro mestiere cioè io non sono mai non mi sono mai avvicinato e non voglio proprio profanare quella grandissima arte cioè è di una difficoltà unica io ho sempre avuto la fortuna di parodiare dei personaggi nel caso di Califano è una roba unica cioè io ho semplicemente ascoltato frequentandolo molto nell'ultima parte della sua vita Franco Califano e ascoltandolo poi mi è venuto spontaneo ma non ho mai non ho mai passato un pomeriggio una serata una mattinata adesso mi alzo mi metto come Claudio mi spiega lui fa questo cioè si mette là a sentire a copiare quel suono là ad avere quella poi vabbè lui è un geniaccio che riesce a avere dei quizi incredibili però io a me viene spontaneo cioè a me viene spontaneo quindi non perché io disdegni di essere classificato come imitatore ma io sono uno che fa anche le imitazioni assolutamente mi piace molto ma più che imitazioni mie sono delle parodie ce ne sono solo due di sedie sì cioè nel senso è complicato se direbbe un po' più di sedie per fare il gioco delle sedie insomma che è uno dei due cavalli di battaglia il gioco delle sedie guarda ti dico quest'anno poi nello spettacolo che ho messo in scena in queste due date straordinarie a Ostia Antica mi sono accorto quasi di aver fatto il passo più lungo della gamba perché quest'anno ho messo sei sedie e l'ho fatto diventare un dinner club l'ho fatto diventare una cena organizzata da Cracco quindi sette perché erano sette i personaggi con Cracco padrone di casa e ci avevo messo dentro anche Chiara Ferragni una sera la Ferragni e un'altra sera ci ho messo Cassano dentro e quindi immagino di la difficoltà di fare questa roba qua con questi sei seduti là con Giallini che già in partenza dice perché c'è l'inizio con Cracco che dice benvenuti a questa cena meravigliosa siete nostri Giallini parte subito la bomba io purtroppo la corsa presto quindi mi posso fermare papaleo che è seduto vicino a lui dice Marco dai cerchiamo di mantenere un contegno cerchiamo di essere e parte questa roba questa diatriba in cui tutto si parla tranne che di questa cena ognuno ha i fatti suoi e a un certo punto mentre la facevo a parte sedendomi su una sedia ho sbagliato voce non ho fatto un'altra ma sono andato proprio in debito d'ossigeno mentre facevo Giallini ho detto ad alta voce questa battuta poi contestualizzandola in quello che stava accadendo che beh sa che ho fatto una cazzata in realtà lo stavo dicendo a me stesso perché effettivamente avevo veramente fatto il passo più lungo daga senti esperienza persona scusa in tutto questo c'era pure Lucio seduto a cena quindi tu immagini ogni volta io andavo da Spalletti la cena prendeva altri 20 minuti in più perché lui per giudicare il piatto partiva col ditino faceva le cose ok scusa ok partiva col ditino e a proposito di Spalletti in realtà una cosina sulla quale so che stai lavorando è qualcosa perché ecco se vi capitasse mai di stare a cena una sera con Andrea eccetera scoprireste che è un grande aneddotico cioè fondamentalmente gli capitano un sacco di cose nella vita ma soprattutto ha una grande memoria e soprattutto sa collegarle in una maniera comica che poi diventerà uno spettacolo guarda ti dico ci stiamo lavorando mi piacerebbe farlo diventare uno spettacolo perché insomma poi i racconti sono tutti molto molto affettuosi non l'ho spento il telefono pensa parliamoci comunque si no è Luisa Pistoia la salutiamo salutiamo Luisa Pistoia la mia gente allora ti dico ho frequentato diverse nel periodo in cui facevo un programma che era molto legato al calcio che era guida al campionato no ancora prima scusami di quel programma per motivi romani per motivi di frequentazione non lo so insomma attenzione a proposito di radio hai fatto anche un programma a radio a radio radio come no azz come no azz e tutte queste mie frequentazioni hanno creato anche un bagaglio di aneddoti compreso poi il periodo di Social Club perché anche a Social Club me ne sono capitate tante recentemente io ho chiesto a James Taylor di millantare di aver duettato con me cioè io ho detto James l'ultima volta che sei venuto qua io ho raccontato alla qualunque di aver duettato con te però nello stesso tempo ho raccontato che il filmato è andato perso quindi se gentilmente possiamo fare solo il finale di Don't Let Me Be Lonely Tonight poi lo monto io non ti preoccupare ti faccio tutti i controcampi a te e tu mi dai il 5 e abbiamo fatto il finale della canzone dove ho fatto Don't Let Me Be Lonely Tonight lui si alza viene da me Amen e mi dà il 5 e quindi ho millantato a tutti di aver duettato con James Taylor a proposito di aneddotica sì ci stiamo pensando a scrivere proprio uno spettacolo dove io racconto solo aneddoti e questa idea è venuta a Giulio Somazzi mentre eravamo ad un pranzo perché a un certo punto lui si è ricordato una cosa che gli avevo raccontato e mi ha detto ti prego mi racconti di nuovo eravamo in tanti a cena a pranzo per il giorno ci racconti di nuovo quella volta che Cassano voleva portarti a Buona Domenica questi sono racconti che poi io non ho mai fatto di cui sono anche molto geloso ma sono talmente tanto affettuosi e non c'è niente di male poi nel farli io frequentavo Antonio Cassano quel periodo là forse era il 2003 sì 2002-2003 e Cassano una domenica mi disse Andrea dobbiamo andare a Buona Domenica perché io e Francesco siamo stati invitati Costanzo se ti vede la tua vita cambierà quindi mi ha detto Buona Domenica non so io ingenuo perché ancora non avevo fatto niente in televisione era il 2002 non vorrei sbagliarmi sì ma credo che fossero quegli anni insomma la partita era il derby la partita era il derby io che ero sempre entrato con i calciatori allo stadio olimpico dal passo Carraio e qualche volta portato da un agente da un procuratore e qualche volta su altre macchine insomma quell'ingresso là lo conoscevo e quella domenica Antonio mi disse però tu devi portare la macchina tua quindi immaginatevi io che entro allo stadio olimpico con la mia Peugeot 206 finisce la partita arriva Antonio con Totti finiscono di farsi la doscia salgono in macchina dentro sti due macchinoni grandissimi bellissimi io dietro con la 206 la polizia municipale che dice ragazzi non vi fermate mai veniteci dietro perché qua dobbiamo dobbiamo passare nel fiume di gente dei via dei gladiatori dobbiamo arrivare di corsa a buona domenica proprio un motivo ragioni di ordine pubblico dobbiamo andare a velocità sostenuta sempre in sicurezza però arrivare agli studi di via di Burtina in tempo perché dobbiamo arrivare in diretta Costanzo di aspettare quindi immagini si aprono sti cancelli partono sti macchine vetri scuri io dietro la 206 che correvo dietro a queste due macchine la macchina che mi chiedeva un po' di pietà perché io stavo lì via dei gladiatori la gente che batteva sulle macchine di Cassano grandi ogni tanto la saura io che cazzo è questo io gli correvo dietro a un certo punto io non so che è successo ma hanno attraversato la strada due ragazzi di decorsa io ho inchiodato questi sono andati avanti me li sono persi me li sono persi tutto questo alle 5 10 5 20 perché se non fatti la doccia fatto sta che erano le 6 meno 10 io stavo ancora fermo a Ponte Duca d'Aosta e Cassano mi telephora dice a Tosta ci siamo aspettati io sto a Ponte Duca d'Aosta quindi immagini vedevo il mio sogno che andava via che era quello di essere portato a Buona Domenica da Maurizio hai provato a dirla ai vigili no l'ho detto a un vigile ma lei andò va a Tosta dico guardi sto dietro a casa e quindi stiamo immaginando veramente di scrivere uno spettacolo 50 minuti soltanto di aneddoti dove racconto veramente delle cose che mi sono capitate allora Andrea prossimi progetti prossimi progetti allora Radio 2 Social Club a maggio inizio le riprese per un film che uscirà a Natale a Capodanno dell'anno prossimo di cui non vi posso dire niente ma ve lo dirò proprio venendo qui un giorno se vi vorrete mi vorrete ospitare con l'altra capoccia del film che è il protagonista del film e che ha voluto che io facessi questo film con lui che è? non lo posso dire non si può dire perché è tutto molto blindato quindi c'è questo film che parte a maggio lo spettacolo mio La fine del mondo che abbiamo presentato qua a giugno continuerà ad andare in scena stiamo capendo se fare un riadattamento per quest'estate e mettere in scena La fine del mondo 2.0 ma questo lo decideremo in questo tempo che avremo a disposizione e poi insomma serate 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 la mattina invece la lettura del messaggero e ancora grazie di essere qui a festeggiare questi 145 anni grazie a voi grazie al messaggero e a quella bellissima pagina che custodisco ancora a casa col fascione mio là che è stato il mio primo articolo importante del messaggero e io ce l'ho e lui ce l'ha grazie e a ti si ritrova tutte le mattine insomma su Rai 2 su Radio 2 ovviamente insieme a Luca che salutiamo sempre facendo il gesto della racchetta ciao Luca grazie a tutti